Buongiorno a tutti, proseguiamo nella nostra lunghissima narrazione, lettura e commento del diario di Mario Roatta avvicinandoci alle ultime settimane di questa intensissima carrellata, una carrellata che ci ha portato a valutare con un certo scetticismo, con una certa un po' amarezza quello che viene descritto nel diario di Roatta, abbiamo avuto modo di vedere come molto spesso il generale che passa da essere capo di Stato Maggiore dell'Esercito a ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito si intrattenga più in argomenti chiamiamoli frivoli, chiamiamoli non congrui rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, però questo in qualche modo ci va a confermare quell'idea che potremmo esserci fatta prima della lettura di questo diario sui motivi che hanno portato poi sostanzialmente alla difficile evoluzione dell'Esercito e delle forze armate italiane in generale durante la seconda guerra mondiale. Se questi erano i capi che erano al comando appunto delle forze armate italiane, quale tipo di guerra ci potremmo aspettare? Punto di domanda e questo purtroppo è un'amara risposta. 16 dicembre, tempo bello ma con un po' di vento freschino, al mattino lavoro è giunto il dattilografo. Dopo colazione, visita di De Stefanis e di Coronati, questi non è affatto contento per la formula con la quale va al comando del 31esimo corpo d'armata interinale. A colazione, alla menza di De Stefanis, dove c'era pure Messe, ha detto qualche frase in proposito che Messe ha troncato seccamente. Montiamo la reticella ad incandescenza alla lampada del mio tavolo da studio. L'operazione riesce bene ed inizialmente la luce è splendida, ma poi tutto torna poco luminoso come prima. Dopo un po' gli occhi si stancano e con questa giornata, 16 dicembre, anche qui diciamo che non ci siamo troppo allontanati dai temi abbastanza leggeri, anche forse troppo leggeri, visto che un buon un terzo delle poche descrizioni di questa giornata si dedicano sostanzialmente all'analisi di una lampadina. Questo è il tenore delle analisi del generale Roatta. Direi che siamo un po' in difficoltà. 17 dicembre. Tempo grigio e rigido, sebbene in fondo non freddo. Al mattino lavoro per terminare la relazione sull'aggressione germanica. Michelotti mi porta all'ultima parte. quindi Michelotti è una sorta di ghostwriter di questa relazione. L'ultima parte è la scritta Michelotti. Così sembra. È assodato che lo Stato Maggiore va a Lecce fra pochissimi giorni, il che non esclude lo spostamento generale a Salerno, Ravello, Cava di Terreni, Nocera. Da Pino è ancora in linea ed è soggetto a forte azione di artiglieria. Rimettiamo il becco nel mio lume da tavolo, come era prima. Quindi si continua a parlare di lampadine. Dopo colazione, mentre Roffeni va a caccia col dottore, eccetera, conosciamo le mitiche, già da alcuni giorni, le mitiche avventure di caccia di Roffeni, al di là di Francavilla, tre tordi e due fringuelli, caccia grossa proprio. Faccio un giro nella campagna sino alle 16.30 interessandomi alla coltivazione di un orto e dalla raccolta delle olive. Quindi abbiamo anche un Roatta in versione contadinesca. Lavoro quindi sino alle 20.30 per terminare la bozza aggressione, puntini, che conto di dare domani ad Ambrosio. 18 dicembre, tempo grigio e non caldo. Stamane ho ordinato il bagno, ma siccome l'acqua scaldata è rossastra, ruggine dello scaldabagno non usato da tempo, gli attendenti la fanno scaldare tre volte nella speranza di avere acqua chiara. È così che alle 9.40 sono ancora a letto. Beato lui. Faccio il bagno con l'acqua rugginosa e non me ne trovo affatto male. Quindi chissà, magari ha scoperto anche un nuovo modo di fare il bagno. Arriva il capitano Mornacco che si insedia. Il tenente del nucleo soccorso stradale lascia invece la sua camera per alloggiare in Francavilla. Vengono a colazione De Stefani, scoronati, e il tenente Coronello Bianchi, quello di artiglieria che era mio compagno all'Istituto Orientale a Napoli. La colazione è buona, ma non presentata come avrebbe potuto. Quindi se fossimo in una competizione di queste televisive di oggi il servizio potremmo dare un 4,5 presumo. Coronati parte fra due giorni per Catanzaro senza più protestare per la qualifica con la quale assumerà il comando del 31esimo corpo d'armati. Quindi anche Coronati si è un po' adattato alle circostanze. Del resto Roatta si fa il bagno con l'acqua rugginosa, quindi Coronati non si può certo lamentare. Viene poi per un momento il dottore con un barone terribile, terribile è il cognome, di Messagne. Mi ricordo che quando ero fidanzato veniva in casa Mancini insieme al, punti di puntini, un terribile, sempre di cognome, meridionale. Mancini è la moglie di, Ines Mancini è la moglie di Roatta. Ma non sembra da quanto dice che sia lui. Vado poi a Brindisi, all'ospedale, dove il professore mi dà la copia del papiro che hanno inviato nei miei riguardi allo Stato Maggiore. Pensavo dall'Egitto, sono un papiro, invece lo Stato Maggiore che scrive. Apprendo che il povero Soldati è morto la sera del giorno 15 alle 22. Si trattava proprio di meningite tubercolare. Aveva già avuto piccole febbri di origine inspiegabile qualche tempo prima. Saluto la sorella Mollica. Salgo poi dalla madre superiore che mi offre un ottimo caffè e mi dà pure i calzettoni finiti, autrice la suora Puntini. Quindi riesce a rimediere sempre qualche cosa. Vado quindi da Ambrosio a cui consegno la bozza della memoria terminata ieri. Mi fa vedere due lettere. Una di Badoglio in data 2 dicembre in cui si invita il Comando Supremo a fare un'inchiesta sul comportamento dei vari comandanti, dall'armistizio in poi, limitatamente per ora a coloro che si trovavano nella zona liberata. Una messe, se non erro, dell'8 dicembre che dà istruzioni in merito ai capi di Stato Maggiore e Ministri delle Forze Armate. I comandanti saranno divisi in tre categorie. Gente che ha fatto il proprio dovere, gente che non l'ha fatto, gente da sottoporre ad ulteriore esame chissà Roatta. In quale di queste tre categorie si potrà trovare. Le alte girarchie, tra virgolette, saranno esaminate dopo l'occupazione di Roma o di tutta l'Italia, non ricordo. Quindi quando c'è qualcosa che non interessa non se la ricorda bene. Quando si tratta di mangiare, bere e di donne è sempre molto attento. Su queste cose invece fa un po' orecchie da mercante. Si chiedono quali fossero gli ordini emanati dal Comando Supremo e dagli Stati Maggiori. Giudice, per le categorie più elevati, il Capo di Stato Maggiore Generale. Quindi messe, che un po' come il Conte di Monte Cristo, è tornato leggermente desideroso di giustizia, quantomeno. L'Arcivescovo o Vescovo di Salerno, malgrado l'intervento personale sul posto di Badoglio e di Joins, non ha voluto cedere il grande seminario locale che dipende dal Vaticano e gode della extraterritorialità. Così il Governo non sa ancora dove potrà stabilirsi. Si fanno gli alloggi, intanto il Stato Maggiore ci sta trasferendo a Lecce, dove il Ministero della Guerra si è frattanto ingrandito, sino a contare 200 ufficiali. Gli ufficiali dell'IS, lì sarà l'Intelligent Service, contano che si sia a Roma verso la metà di gennaio. Questo perché Eisenhower ha avuto la disponibilità di un maggiore tonnellaggio sino a tale data, si presume perciò che si tenda a qualche operazione di sbarco, a tergo dello schieramento tedesco. Come sappiamo ci sarà da lì a un mese circa lo sbarco ad Anzio, però diciamo che il discorso di arrivare a gennaio del 44 è una pura illusione. Smith, il capo di Stato Maggiore di Eisenhower, è a Bari per conferire con Alexander. Truppe francesi sono entrate in linea. Si formano complementi per aggruppamento da Pino, fra essi 400 volontari di cui molti dei battaglioni studenti universitari. Il Ministro Corbino Industria si è rotto le due braccia in un cidente d'auto e all'ospedale nella mia stessa camera. Ambrosio invita a colazione me e i miei due ufficiali per mercoledì prossimo a bordo della sua nave generale medaglia d'oro Turba. Turba, Achille Turba, un eroe, un generale della Prima Guerra Mondiale di cui tra l'altro io ho fatto anche una biografia, quindi è un personaggio particolarmente importante. Sembra interessante anche citare Turba che poi tra l'altro come vari generali e decorati della medaglia della Voluminità della Prima Guerra Mondiale era stata tributata l'onore delle disegnazioni di unità della reggia marina. 19 dicembre, bellissima giornata. Partiamo alle 9.30 con Roffeni, via Ceglie, Ostuni. Arriva a Bari alle 11.30. Mentre Sosto da Bellomo, nulla di combinato per le ville che cerca, chissà, Bellomo cerca le ville, vabbè, poraccio. Roffeni ritira al corpo d'armata il mio vestito sportivo e dall'ufficio di Re Soli il mio ritratto. Quindi oltre al vestito sportivo abbiamo anche un bel ritratto di Roatta, chissà dove lo appenderà. Per una strada secondarissima che conduce sino a Modugno, arriviamo a Palo alle 13.00. E' dubbio se la famiglia da cui andiamo a colazione ci aspettasse realmente. Se non si sono imbucati, non lo so, non riesco a capire. Vabbè. Certo che mette subito al fuoco il mezzo abbacchio che abbiamo portato, il quale costituisce il pezzo forte della colazione. Quindi diciamo, sostanzialmente fanno, come direbbe Totò, alla romana, nel senso che gli ospiti portano il cibo e chi invita ci mette il fuoco. In casa fa un freddo cane che lì per lì non risentiamo molto, ma che subiamo nelle diverse ore di soggiorno pinacolo. Quindi giocano anche a carte. Poi tanto mai non ci si stava, perché comunque hanno mangiato, hanno giocato. Viene anche l'altra sorella, annita, che non ha quasi più nulla dello charme di un tempo. E' ormai deperita questa annita, non sappiamo come poteva essere, però l'occhio vigile di Roatta ha notato anche la differenza. Ripartiamo verso le 19, cioè una giornata lunghissima, giungendo a casa per il medesimo itinerario verso le 21.30. Non sappiamo poi la cena come la fanno, vabbè comunque non ce ne avranno, hanno mangiato abbondantemente questo mezzo abbacchio. Vediamo nel cortile una macchina sconosciuta. Ci dicono che ha portato un cappellano. Si tratta invece del tenente Lombardi che mi viene a parlare del lavoro affidato. Lo tratteniamo a cena, quindi mangiano anche a cena, sentiamo le membra indolensie dal freddo patito in giornata e perciò prima di andare a letto sorbiamo un vin brulé. Quindi diciamo per in qualche modo di riscaldarsi. Pare circolare tra gli alleati la versione che se le cose vanno ad agio al fronte italiano ciò è dovuto a noi che dopo l'armistizio non abbiamo resistito sufficientemente ai tedeschi. Per certi aspetti rispetto a quello che era stato proposto durante le trattative e durante la firma dell'armistizio di Cassib, diciamo che gli alleati tutti questi torti non ce l'hanno poiché da settembre a dicembre in questi tre mesi non è che abbiano fatto grandissimi sforzi per riuscire a sfondare il fronte appenninico della zona tra poi la Campania e Lazio e il Molise e l'Abruzzo diciamo che però alla fine tutti i torti come dicevo non ce li hanno sicuramente. Detto questo il solito Roatta sì il solito Roatta che però ci offre anche degli interessanti spunti di riflessione all'interno nelle pieghe di tante altre cose meno interessanti sotto l'aspetto della narrazione storica più interessanti sotto l'aspetto dell'umorismo del gossip tra una mangiata e un'altra tra un fringuello cacciato da Ruffeni e il Vimbrulè perché stava freddi durante la permanenza a casa di questi che non si sapeva neanche se li aspettavano comunque alla fine hanno portato questo mezzo a bacchia in qualche modo se la sono cavata discretamente. Detto questo come alzò vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao